L'ospedale maggiore di Bergamo è uno dei pochi in Italia dotato di una clinica cardiochirurgica specializzata per la prima infanzia ed è una clinica che tutto il mondo ci invidia. Noi abbiamo cominciato a operare i cardiopatici congenti molto piccoli già nel 1968 e abbiamo costruito questo centro nel 1970. Da allora la nostra attività naturalmente è aumentata. Abbiamo fatto opera direi di prosenitismo in questo campo e siamo felici ed orgogliosi di poter vedere che nell'Italia del 1992 vi siano altri colleghi e altri centri che possono ormai operare i bambini con buoni risultati. La cardiochirurgia pediatrica secondo me ha fatto notevolissimi passi in questo senso si è allineata secondo me a livelli certamente europei e la conoscenza di quello che si deve fare, di quando si deve fare, di come si può fare è molto aumentata. Quindi il bilancio dopo 15 anni della nostra attività sia nel nostro centro di Bergamo sia per quanto riguarda tutta la nostra penisola direi è decisamente positivo. Grazie a tutti.